Qua come ho? Qua come ho? Questa qui sulla destra Monaco E poi... Che cos'è? Un coso di auto? Una bicca Dei girati sulla destra eh Per girare sulla destra qui Cazzo è vero che qua ci sono tutte le belle biancone che piacciono a me Un bel zone Un po' il prossimo semaforo là a sinistra Sembra eh Nicolás Sembra un'ambientazione Da squadra speciale copra 11 qua E beh più o meno Guarda Bari Solo che saranno le strade meno fiscate Bari copra 11 Bari copra 11 A sinistra il semaforo Ehi tanto c'è ancora la rega Come è? Spera 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 E quella dopo? Nooo Se mi sa che sei incantato è quello dopo Scusami Anche qui cos'è? Grob Marktail E' un supermercato Che cacchiè Sì noh è anche giusto è quello dopo E' la moglie di arrivare ok ora fai il giro di questa piazzola e vai a sinistra nooo porco giuda bioparco proprio boia più ci si avvicina all'hotel e poi ti peggiora la uva avete notato quante auto italiane vengono non ho ancora visto una c'è una barchetta lì eh vabbè ma quello è un italiano che fa l'operaio qua vengami così la germania e mica non si vede non si vede un pene iniziamo a rimuovere tutte le leggi ciao quanto dura buona riprende il video dove sediamo dopo il semaforo da 3 ore infatti io ho 6 ore e mezzo di video io non lo so nicolas occhio ciao qua c'erano tutte le abitazioni occhio al 4 frecce chi è la? la polizia ci sta pensando ha visto sargassare no 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 tra un po' si vede le lampeggianti ci seguo qui dritto oh ma cos'è? siamo a pavia ma guarda a bari però le via sono scritte diverse più in cruco via che betola puttanea ma proprio un posto da succare guarda un po' da destra mi sembra no ma cos'è? io ho fatto 6 ore di strada per avere a me qua sembra con il traffico e i semafori come quando sono andato a Parigi che mi sono trovato in Napoletania è stata la volta che ho sbroccato anche se di fronte a loro vorrei in albergo litigando come un maestro che bracci ho qui le 32 dai al lavoro non te lo guarda punta chiesto su questo rigurgito del terrorismo ma alla fine era veramente rigurgito no? Walter Schachmer l'attaccante austriaco che ha vestito negli anni 80 le valli dicesime a Torino questa strada giocherà in trasferta e poi ti svolte un pochino di là sei incantellato ah ok sta andando bene la sei russo e comunque c'è un po' dell'interla milanese in che guarda come l'interla ma guardavo se c'è una polizia indietro sai olè siamo a farlo rosso veramente ma gli stai di merda gol siamo bene siamo bene accetti oh facciamo bordelli nel vero si si sta già così facciamo come i fantozzi lì in caffeggio ora vedi il gioco dove devi andare prendi questo spazio di traffico qua davanti minchia va che posto quello della polana l'azzo di cia birra buono piccolina ziskin che camminano